Grazie a tutti. Allora, abbiamo F, abbiamo la situazione precedente, non la storia di riscritto 4, abbiamo I, poi abbiamo A condenente D e abbiamo F appartenente a C1 di A, quindi F definito su A, A valori in R di classe C1. Allora, cosa vogliamo andare a fare? Questo è uguale all'integrale sulla frontiera giuttiva di F per quello che chiameremo Ni1 in Ds, chi è Ni1? Qua andremo a definire il versore tangente e il versore normale. Il versore tangente si chiamerà Tau e il versore normale si chiamerà Ni. Inversore tangente sarà univoco, in versore normale ce ne sono due, perché sarebbero ortogonari a quello tangente. Uno che punta verso l'interno dell'insieme e uno che punta verso l'esterno. Ni1 è il versore normale esterna, cioè quella che punta verso l'esterno dell'insieme. Ni1 sarà la mia numero E. Questo è altrettanto uguale, questa formula è ancora più significativa, come DT più di F di Y in Dx. Allora, guardate che passare da questa scrittura a questa scrittura è un semplice fatto, almeno visivamente, di semplificazione. Cioè, la notazione è stata costruita in maniera tale che il teorema funziona se semplifica. Cioè, che devi semplificare? Allora, tu qua semplifici di Dx e Dx. Poi, ti rimane F di Y. Che cos'è F di Y? F di Y è una forma differenziale. Come sono fatte le forme differenziali in R2? Saranno il primo coefficiente per Dx più il secondo coefficiente per Dx, perché le proiezioni sono solo Dx e Dx. Quindi, questa forma differenziale di F è 0 Dx più F Dx. Ok? Ma uno dice, quando ho semplificato un'isima con D? Questo D lo prendo, lo metto in F. Quindi, vedete, anche la notazione per la frontiera è stata fatta apposta per queste formule. È stata fatta apposta per queste formule. Vuol dire che sono importanti queste formule. E poi perché più? Qua, nell'integrale delle forme differenziali, conta il verso di percorrenza. Perché, diciamo, come faccio ad accorgermi dalla semplificazione che il verso di percorrenza è positivo? Beh, perché se tu scrivi la formula in modo naturale, in R2 in modo naturale significa che prima Dx, qua Dx, e qua c'è il Dx, tu vedi che stai semplificando cose che stanno vicino. La seconda formula di Daule Green, che è uguale all'integrale sulla frontiera di T di F per l'inguaire in Dx, che è uguale all'integrale su t di meno, o sempre venite su meno t di più, la stessa cosa, di Fdx, y, in Dx. Che è esattamente la stessa semplificazione, cioè, invece di semplificare Dx con Dx, il semplifico Dx con Dx, il D passa qua, e invece c'è il D. Perché, diciamo, un modo per ricordarsi, l'idea è che prima di semplificare io lo devo portare vicino, ma se lo devo portare vicino, lo devo scambiare. lo scambio, ricordo il segno. Questo è un modo, non dimostra niente, assolutamente, però è un modo mnemonico per ricordarsi dove ci devo mettere il segno. Quindi, questa è l'affermazione di Gals Green. Adesso, per dimostrare queste formule, abbiamo un lungo percorso. Prima, dimostriamo, andiamo a scrivere tutto quello che ci serve per calcolare questo integrato. Quindi, in particolare, ci servono new e new. Poi, andiamo a scrivere questo integrato, questo integrato, facciamo vedere che sono uguali. Poi andiamo a scrivere questo integrato, questo integrato, facciamo vedere che sono uguali. Poi andiamo a scrivere questo integrato, facciamo vedere che sono uguali. questi due e poi l'ultima sarà questo che sarà quale così chiaro l'ordine prima dobbiamo ricavare new e new dopo dobbiamo andare a scrivere questi 4 integrati per far vedere a coppie che sono uguali poi dimostriamo la seconda forma di grau flip perché è quella immediata più facile e poi dimostriamo la prima quindi non c'è nulla di complicato basta semplicemente applicare le definizioni va bene? va bene allora dimostrazione allora andiamo qua a scrivere se lo facciamo entrare tau ammettiamo delle delimitazioni così allora primo gra chi è tau è il versore tangente il versore tangente significa che devo fare il vettore tangente 1 alfa primo di fratto la radice di 1 più alfa primo di c lo devo normalizzare se deve essere un versore deve essere diviso per la sua nota chi è ni ni non è altro che un vettore ortoconale questo per avere un vettore ortoconale in R2 è facilissimo basta scambiare le componenti e cambiare il segno a 1 delle 2 quale devo cambiare il segno a quale devo cambiare il segno alla seconda per quale motivo beh lo vedete che ni punta verso il basso la seconda quindi il componente deve essere negativo come lo girate girate la seconda componente di ni deve essere negativa quello ricordatevi che è un grafico di funzione quindi non può arrivare in verticale ok quindi questo è tau e questo è ni sul primo tratto sul secondo tratto è molto più semplice perché tau quando vado a derivare qua è 0,1 secondo tratto tau uguale 0,1 e chi è ni? è 1,0 quello esterno punta verso destra quindi è 1 a 0 cambia segno ma tanto è 0 rimane 0 sul terzo tratto tau è 1 alfa beta' di t fratto la radice di 1 più beta' di t al quadrato e chi è ni? è meno beta' di t più 1 anzi a 1 fratto la radice di 1 beta' a quadrato mi questa volta punta verso l'alto ok? o tenete conto del fatto che qua vedete il vettore tangente qua va sempre il vettore tangente va sempre verso destra sia qua che qua la rammare esterna qua va di su la va di sopra perché è definito dal fatto che deve essere esterna cioè quella che punta verso l'esterno dell'insieme e questo fatto tiene conto del segno che cambia da quest'altra parte col verso di vettore tangente quanto tratto tau è uguale anche qui a 0 1 perché io quando derivo viene 0 1 ma ni stavolta è uguale a meno 1 0 sul tratto di sinistra il quarto tratto la normale esterna per essere appunto esterna deve puntare verso sinistra ok? quindi questi sono tau e sono ni adesso cominciamo ad andare a scrivere adesso dimostriamo facciamo così cambiamo leggermente l'opera dimostriamo prima la seconda formula così ce la togliamo dai piedi perché dimostriamo la seconda formula prima? beh potete notare che ni 2 in due casi è 0 quindi quando troviamo scrivere integrale integrale adesso devo scrivere 4 integrali e sommarli perché? devo fare l'integrale lungo i 4 tracoli e li devo sommare ma quando andrò a fare questo? se di 2 è 0 in due occasioni qua mi verranno soltanto 2 a te e quindi il mio lavoro sarà semplificato allora andiamo a scrivere integrale integrale ma mi 2 è ma mi 2 è meno 1 fratto la radice di 1 più alfa' di t al quadrato per ds ma chi è ds? ds è esattamente la stessa radice e poi ci devo mettere poi abbiamo integrale sul secondo tratto sul secondo tratto è inutile che lo vada a fare perché di 2 è 0 quindi integrale sul secondo tratto non c'è non scrivo non lo imposto neanche tanto dovrò impostarlo per quanto riguarda l'altra formula quindi diciamo è inutile impostarlo gli altri pezzi ci saranno ma poi c'è un pezzo moltiplicato che fa 0 quindi integrale quindi vado a scrivere semplicemente l'integrale dunque il terzo tratto a e b di f di t beta di t per di 2 di 2 è 1 fratto la radice di 1 più beta' di t al quadrato per la radice di 1 più beta' di t al quadrato in d t quindi andando a fare il quarto tratto come il secondo è 0 quindi andando a semplificare qua mi viene l'integrale tra a e b di f di t beta di t meno f di t alfa di t questo è il risultato del primo integrale diciamo del primo dei due integrali di stanno andiamo adesso a fare l'integrale della forma differenziale adesso devo fare l'integrale su d t più d t meno di f di xy in di y ripeto lo stiamo qua sotto quello che c'è una forma differenziale omega in due variabili è a di xy di x diciamo a1 di xy di x più a2 di xy di y nel nostro caso a1 fa 0 e a2 fa f quindi il nostro integrale come si va a fare? questo è l'integrale tra a e b di f di t alfa di t adesso cosa devo mettere? devo mettere d y ma y è alfa di t quindi devo mettere alfa primo di t e poi ci devo mettere meno perché meno? perché il primo tratto percorreva la mia percorreva la mia frontiera in verso positivo siccome la devo percorre in verso negativo meno qua no non è di x stiamo dimostrando la seconda eh eh sì scusami sì 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 qua è d x infatti qua è d ok? sì sì lo impaiono io ok? più secondo pezzo secondo pezzo adesso quando vado a fare d x mi viene 0 perché c'è b qua devo fare integrare l'alfa di b che è la db di f di b di per 0 quindi e la devo fare la derivata di b quindi il meno rimaneva vero perché era la derivata di b faceva 1 ma siccome la mia percorso è in verso positivo ci devo mettere meno perché il terzo integrale mi fa l'integrale tra a e b di f di t beta di t in d x quindi l'arrivata di x di t è uguale a t derivata di t rispetto a t fa 1 e stavolta sto percorrendo la frontiera in verso negativo e quindi qua il meno non ci dà poi il quarto integrale è l'integrale tra a fa di a e bella di a 4 ovviamente sarebbe meno però tanto fa 0 meno perché questa percorrenza era sempre positiva invece io la devo percorrere in mezzo negativo quindi non è errato però diciamo per coerenza è meglio mentre meno perché di f di a t per 0 in d alla fine cosa viene? viene l'integrale tra a e b di f di t beta di t meno f di t alfa di t in d e come vedete viene esattamente lo stesso digitale l'ultimo che vado a fare è l'integrale doppio su t di df in dy xy in dxx questo lo posso fare però come integrale iterato non è diciamo teoricamente non è importante l'oggi però in questo caso stiamo insieme normali rispetto all'asse x ci conviene integrarlo prima rispetto all'asse x quindi posso scrivere integrale tra a e b dell'integrale tra alfa di x e beta di x di derivata parziale rispetto a y di f di xy in dy e poi integrato in dx che è uguale all'integrale tra a e b allora io la primitiva di questo è integrata rispetto a y che è f di xy ma dove la devo valutare in beta di x meno la valutazione in alfa di x e poi la devo integrare in x allora come vedete in tutti e tre i casi è venuta esattamente la stessa cosa cioè uno può dire no ma qua c'è la x non c'è la t la x è una variabile di integrazione quindi è una variabile saturata è una variabile che non ha diciamo a cui possiamo cambiare noi quindi avete visto sopra è venuto quell'integrale sotto è venuto quell'integrale sotto è venuto lo stesso integrale quindi questo questo e questo sono qua ok adesso andiamo a fare la stessa cosa con la prima formula di caos green post-prograzi quindi la seconda formula è dimostrata adesso devo fare un po' devo scrivere un po' più piccolo perché i prezzi sono un po' di più diciamo cercherò di scrivere un po' più piccole le radici perché tanto so che si semplificano quindi quando riguarda la prima formula ho integrale esteso comincio col secondo integrale poi faccio il terzo e poi faccio il primo esteso a dt di f per ni 1 in ds questo è uguale l'integrale tra i b di f di t alfa di t poi mi devo andare a prendere ni 1 ma stavolta ni 1 è alfa primo di t fratto la radice di 1 più alfa primo di t al quadrato per la stessa radice di 1 più alfa primo di t al quadrato in dt e questo è più ora più integrale tra alfa di b e beta di b di f di b t a ni 1 stavolta è 1 quindi in d t poi ve lo scrivo allora qua si semplifica vabbè questo lo facciamo poi più l'integrale tra alfa di a e beta di a t f di t tra s scusate tra a e b di nuovo tra e b di nuovo di f di t beta di t per il meno beta primo di t fratto la radice di 1 più beta primo di t a quadrato per la stessa radice 1 più beta primo di t a quadrato in dt poi scrivo direttamente meno integrale la radice di a e beta di a di f di a t di dt ok perché qua ni 1 è meno beta primo e qua ni 1 è meno 1 quindi se voglio adesso scrivere di nuovo semplificando qua avrò l'integrale tra a e b di f di t beta facciamo così f di t alfa di t alfa primo di t meno f di t beta di t beta primo di t più vado a capo qua più a l'integrale tra a fa di a a fa di b e beta di b di f di b t di t meno l'integrale tra a fa di a e beta di a di f di a in dt quindi stavolta i vez sono 4 due le ho condute al coppiale gli altri due no perché due sono integrali sullo stesso intercato adesso andiamo a fare l'integrale dt di f stavolta si in dy di f di x in dy percorso in mezzo positivo questa volta allora chi è? questo è l'integrale tra a e b di f di primo tra pi alfa di t per dy ma chi è dy sto alfa primo di t dt devo cambiare segno? no perché percorso i percorrenzi così tog il secondo trattamento integrale tra alfa di b e beta di t è la culpa è dt chi è? dx dy è y uguale a t quindi dx uguale a dt devo cambiare segno? no perché il verso di di percorrenza è quello giusto poi avrò più integrale tra a e b di f di t beta di t chi è? dy beta primo di t di t devo cambiare segno? sì quindi metto meno perché il verso di percorrenza era orario e quindi era negativo poi devo fare meno l'integrale tra alfa di a e beta di a di f di a t dx uguale a dt però meno ce l'ho messo misto del fatto che il verso di percorrenza qua è orario e quindi devo cambiare il segno che è esattamente lo stesso integrale ok? bene allora risparmiando un po' di spazio con un po' di fatica ci siamo garantiti abbastanza spazio ok? adesso qual è il problema? è che il mio integrale doppio esteso a t di df in dx xy in dx dy lo posso scrivere come l'integrale tra a e p dell'integrale tra alfa di x e beta di x di df in dy poi ancora integrata in dx ok? allora qual'è il problema? il problema è che stavolta io sto integrando in dx ovviamente questa è la derivale di dx come si fa? è molto semplice allora questa qui è una funzione allora è qua di x dentro bene dopo l'integrale di dx quindi questa è una funzione della sola x ok? però questa funzione della sola x è parente a un'altra funzione della sola x che scrivo qui mi ricavo un po' di spazio qui allora a prendiamo g di x uguale l'integrale tra alfa di x e beta di x di f di x y in dx chi è g' di x? questo esercizio l'abbiamo già fatto g' di x è uguale all'integrale tra alfa di x e beta di x di f di x di x di x di x di y di y più f di x beta di x di x di x meno f di x alfa di x alfa di x alfa di x questo è è l'esercizio che abbiamo fatto una decina di giorni fa allora utilizzando questo esercizio questo integrale è più uguale a g' e questi due devo portare all'altra parte quindi qua posso scrivere questo è uguale all'integrale tra a e b di g' di x in dx più integrale tra a e b di f di x alfa primo alfa di x alfa primo di x in dx meno tra eh sì meno integrale tra a e b di f di x beta di x beta primo di x in dx uguale a tutta questa quantità ne andiamo a secondo pezzo come la vogliamo di amare così due perché? perché questa quantità l'abbiamo già riconosciuta questo pezzo qua già ci sta quindi bisogna vedere che il primo pezzo sia questo cioè questo potremmo fare questo perché l'abbiamo di altri due integrali già ci stanno quindi questo è uguale a l'integrale di g di primo di x che è g di x valutato tra b ed a fa g di b meno g di a più questo secondo pezzo che abbiamo già calcolato ma chi è g di b? per calcolare g di b basta mettere b al posto di x quindi questo è l'integrale tra a e b scusate tra alfa di b e beta di b di f di b y in d y più meno l'integrale tra alfa di a e beta di a di f di a y t e y più quel secondo pezzo che non vogliamo ricopiare più perché è già la quarta, terza volta il segno più e meno non ha due no? si e non devono essere scambiati da ogni l'integrale il segno più e meno io li ho portati dall'altra parte quindi stavolta c'è ragione no eh anzi fate bene quando mi correggete perché allora quindi allora questo ci sta questo ci sta questo ci sta anche qua la stessa cosa il teorema è dimostrato uno può dire vabbè ma qua c'è la y qua c'è la y e qua c'è la x e là si chiama t non fa niente quella è una variabile che ci sta si chiama variabile di mucle oppure l'informatica chiamate variabile di servizio ci stai facendo un integrale sopra ok quindi sono variabili saturate e quindi come le chiami chiami ottieni sempre lo stesso quindi questa è la fine della dimostrazione del teorema di sulle formule di caldo prima di fare un'altra piccola pazza dopo facciamo esercizi andiamo a fa capire che le formule di Gauss-Green valgono per insiemi più generali cioè praticamente in un certo qual senso valgono sempre sempre diciamo che innanzitutto per poterle almeno capire noi bisogna che ci sia la frontiera cioè che l'insieme sia meno localmente si possa scrivere con una bus poi vedremo più avanti se l'abbiamo dei vini date le condizioni sufficiente affinché questo sia possibile però diciamo quello che voglio far capire sono due dei posti vediamo un po' puoi sapere che già dall'anno scorso ho la passione per gli insiemi allora vediamo un po' se qua vediamo un po' andiamo a fare la normale esterna e la normale interna allora queste sono le due normali in questo punto questo è il mio insieme allo ma ci sta pure il gesto colorato lo coloro vabbè è un rosa pallido sono andato a colorare con il paletto allora ricominciamo insieme questo qua quindi adesso io per esempio vado a fare la normale qui e la normale qui allora partiamo dall'esterno quindi se ho sbagliato io lo so tanto non ho questo è il mio insieme coloro la domanda è qual è la normale esterna questa di sotto o questa di sotto qual è questa o questa è chiara è chiara a tutti che è quella di sotto non guardate dove è a terra anche se è normalizzata lunghezza 1 bisogna vedere localmente se va verso l'esterno o va verso l'interno questa va verso l'esterno questa anche se la punta del vettore atterra fuori dell'insieme questa è la punta del vettore atterra dentro l'insieme questa localmente va verso l'esterno e quest'altra localmente va verso l'interno quindi quella che punta verso l'interno che punta verso l'esterno quindi la normale esterna è questa qua questo è il primo qua questo è banale ma lo dico perché se no la gente si può essere poi andiamo a fare un insieme così allora su questo insieme le formule di Dausscreen valgono? l'esposto è sì perché? allora noi possiamo dividere questo insieme in vari insieme ok facciamo allora quindi questi insiemi li chiamiamo D1 2 3 perché T1 e T2 erano quella puntiera quindi ci componiamo allora gli insiemi sono D1 D2 D3 D4 Dc e D6 questi insiemi sono stati costruiti in maniera tale che ciascuno sia normale rispetto o all'assex o all'assex allora vedete questo questo qua D1 è normale rispetto all'assex dice ma il primo tratto non c'è chi se ne importa cioè il primo tratto è con lo stato a un punto quindi qua avete la funzione di so la funzione di so e i tratti verticali poi questo qua è normale rispetto a uno dei due assi significa che è un'unione di segmenti verticali e di segmenti verticali e così sono tutti normali allora io cosa posso scrivere io posso scrivere che l'integrale per esempio scriviamo la prima forma l'integrale steso a D1 Df D1 in S è uguale l'integrale steso Df Df in S è uguale su D D1 è uguale l'integrale steso a D1 Df in Dx a Dx in Dx poi l'integrale steso alla quotiera di D2 Df in D1 in S è uguale l'integrale steso a D2 Df in Dx Dx in Dx poi puntini puntini arrivo fino all'ultimo l'integrale D D6 Df mi 6 mi 1 in Ds è uguale l'integrale a su D6 Df in Dx a questo punto prendo e faccio la somma allora qua è chiaro mi viene un'unione di tutti questi qua sono insiemi essenzialmente raggiunti cioè sono attaccati lungo la frontiera quindi l'integrale diciamo tutto l'insieme lo chiamiamo D gli farà l'integrale lungo diciamo su tutto D di Df in Dx 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 Allora andiamo a vedere che cosa succede quando vado a fare l'integrale lungo i vari tratti lungo quando vado a sfumare questi i tratti esterni di frontiera percorsi in mezzo anti-orario guardate guardate che appartengono solo a un tratti per esempio questo pezzo di frontiera qui a partire solo di C quindi quando li vado a sommare gli integrali lungo la frontiera esterna rimangono indicare lungo la frontiera D e cosa accade agli altri tratti prendiamo un pezzo di frontiera diciamo di dei D con I che però sia interna a D per esempio prendiamo questo tratto qua o questo tratto qua questo tratto qua mi sono dimenticato di 6 mi era dimenticato di 6 però non cambia niente ok allora prendiamo il pezzo di frontiera che sta tra D4 e D5 ora questo pezzo di frontiera guardate quando io percorro la frontiera di D5 in senso anti-orario io lo sto vabbè non mi interessa il senso di un pezzo anti-orario o orario mi interessa la normale perché sto facendo il primo integrale la normale a 4 quella esterna punta verso 5 la normale a 5 esterna punta verso 4 quindi sono due normali opposti quindi quando li vado a sommare quei pezzi mi porteranno due segni opposti uno nell'integrale quando lo faccio sulla frontiera di D4 e l'altro nell'integrale quando lo faccio sulla frontiera di D5 quindi che cosa succede che i due integrali si cancellano quindi tutti i pezzi di integrale lungo la frontiera interna diciamo i pezzi di frontiera di T con I che sono interne a D si cancellano e tutti i pezzi di integrale lungo la frontiera esterna rimangono e quindi andando a sommare qua vi trovate l'integrale su D qua vi trovate l'integrale steso dalla frontiera di D di F di N1 in S avete trovato la formula di Gauss-Green uno dice ma questo vale per il primo integrale e il secondo integrale il secondo integrale dipende dal pezzo mettiamo i pezzi di percorrenza positivo allora se vi andate a mettere i pezzi di percorrenza di orario vi trovate che tutti i pezzi esterni vengono percorsi in mezzo di percorrenza anti-orario per quanto riguarda i pezzi interni il pezzo di percorrenza anti-orario lungo D4 quando percorro questo pezzo qui me lo fa percorrere dal basso verso l'alto il pezzo di percorrenza anti-orario lungo D5 me lo fa percorrere dall'alto verso il basso che significa che quando andrò a fare la mia sostituzione andrò a fare l'integrale il pezzetto di integrale mi verrà con due segni anche di opposto e quindi quando riguarda la somma se ne vanno e quindi anche diciamo analogamente qua abbiamo l'integrale esteso a D D più Df di x in x ok? quindi abbiamo esattamente le stesse formule di calfrini quindi basta affinché le formule di calfrini siano valide basta che quindi insieme si possa staccare il numero finito di z che sono normali o rispetto all'asse x o rispetto all'asse y quindi effettivamente la cosa funziona in realtà si potrebbe dimostrare un altro terreno un po' più generale che quindi le forme vanno ancora un po' più in generale ma bisognerebbe usare la partizione dell'unità e mi sembra una punizione inutilmente diciamo quella non ve la faccio la matematica si fa chiaramente però l'ingegneria mi sembra esagerata quindi tenete conto che in realtà diciamo le formule valgono in qualunque contesto riusciate a pensare ok quindi questa è la situazione c'era un'altra situazione che spero mi è sfuggita ma non mi viene in mente se mi viene in mente di più tardi adesso facciamo una pausa di 5 minuti e poi ci facciamo esercizi grazie